Qui Radio Speranza in Blu si è dall'ascolto di Greensat Radio, il vostro satellite verde, nato dalla sinergia tra Associazione dei Consumatori Contribuenti Abruzzo e Arga Abruzzo, i giornalisti verdi della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. I due portali di riferimento sono www.contribuentiabruzzo.eu e www.argalan.eu. In studio Donato Fioriti. Come i nostri radioscoltatori sanno, siamo soliti partire con delle affacciate di finestra, un po' alla modesto della porta, ma prima di questo alcune notizie utili in materia Covid che purtroppo ci riguardano ancora in questo periodo. Per tutti coloro che dovessero rientrare dall'estero in Abruzzo c'è un numero dedicato che è 886 1016, il numero dedicato per la città di Pescara è invece lo 085 42 83 400. Ricordiamo che nel weekend e quindi questo fine settimana 910 siamo in fascia arancione, quindi bar e ristoranti chiusi, tranne che per l'asporto, negozi aperti. Si può andare nella seconda casa ma solo nella propria regione. Fuori dal proprio comune si possono andare a trovare amici e parenti, in un momento di una sola volta al giorno serve l'autocertificazione in questo caso. Dall'11 al 15 entrano in vigore regole nuove più severe. Le regioni possono finire in fascia arancione con un indice RT superiore a 1 e non più a 1,25. Il superamento dell'1,25 fa scattare la fascia rossa e in ogni caso quindi niente viaggi fuori dalla propria regione se no per necessità. Nei weekend 16-17 tutta l'Italia torna in fascia arancione ad eccezione delle regioni rossa, negozi chiusi e bar e ristoranti operativi solo per l'asporto serve l'autocertificazione. Allora diciamo questo, intanto delle notizie di carattere locale, la prima che ricordiamo sempre è quella relativa al settore trasporti e telecomunicazioni, c'è l'assistenza stragiudiziale gratuita e giudiziale convenzionata dell'Associazione dei Consumatori e Contribuenti a Brusso perché per una convenzione con Regione a Brusso è il Ministero dello Sviluppo Economico. Per cui chi avesse queste necessità o volesse usufruirne può inviare la richiesta a cipas.eu.gmail.com Una notizia ancora di carattere locale riguarda l'incrocio tra Via Lettra e Via Le Marconi a Pescara con una vera e propria discarica a cielo aperto ormai ufficializzata. Lo abbiamo più volte segnalato attraverso l'Associazione regionale dei Consumatori e Contribuenti a Brusso, non è più ammissibile lo stato di degrado sanitario relativo alla zona dei Cassonetti posizionata nell'altezza di Via Le Marconi adiacenze stazionene in prossimità dell'incrocio con Via Lettra e prima della rotatoria università. Così la nota del cipas a questo punto non si tratta più di una discarica abusiva. C'è l'ho aperto ma è stata ufficializzata nel modus operandi da gente di fuori quartiere e persino fuori comune. E' usuario ormai abbandonato i materiali di risulta, vecchi elettrodomestici ed altro. I condomini della palazzina attiva e Via Le Marconi, disperati, hanno approvato in sede condominiale e fatto richiesta al comune di un'isola ecologica. Più volte segnalate questo stato di cose ci si augura da una parte che il servizio attivo sostituisca i cassonetti o mai ridotti a relitti e che il comune dall'altra permette l'istituzione di un'isola ecologica come avvenuto ad esempio nella vicina Via Lettra, procede di documento, attivando da due vanno delle telecamere il personale preposto al controllo. Se non sarà ripristinato status quo ante, totellando il decoro urbano e la salute dei stessi residenti, inevitabilmente, concluda la nota del cipas, per quanto si verifica, ormai da oltre un anno sarà chiamato a occuparsi della stessa magistratura che pure ha tanto altro da fare. In situazioni similari si riscontrano in Pescara, anche ad esempio in Via Fonte Romana, vicino alla scuola Carducci, dove segnalano la presenza da tempo immemorabile di copertoni e quindi tutto quello che ne consegue dal punto di vista sanitario. Purtroppo sono problemi che attraversano e sono presenti in maniera quasi stabile in varie zone della nostra città e su questo contiamo sulla sensibilità dell'amministrazione locale, del comune di Pescara e anche di Attiva. Per invece le notizie che più ci riguardano direttamente di carattere agroalimentare, una riguarda in modo particolare la ministra Bellanova, i punti fermi posti dall'agricoltura per l'utilizzo dei fondi europei. Siamo consapevoli che la filiera zootecnica è ancora in forte sofferenza, in particolare il comparto bovino e quello sui Nicolo. Questo lo ha sottolineato il ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova. Il suo intervento sulle politiche per la ripresa legate al Recovery Fund in discussione in sede governativa è avvenuto in occasione di Assemblea Uniceb, l'organizzazione che in campo nazionale, comunitario e internazionale cura e tutela gli interessi della filiera delle carni. Dall'allevamento del bestianne fino alla trasformazione e commercializzazione delle carni e dei prodotti. È evidente che oggi ha proseguito la ministra il nostro obiettivo prioritario e quello di salvaguardare la vitalità e la competitività delle imprese, sostenendole in questo passaggio delicatissimo e ponendo le basi per costruire il futuro del nostro Paese. In questa fase siamo impegnati su più fronti, ma sempre un unico obiettivo, il futuro della filiera agroalimentare, il lancio del Paese e interesse nazionali coincidono. Come ha sottolineato la stessa Bellanova, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato con i fondi europei e Next Generation EU, dovrà avere un cuore agricolo accompagnando il processo di transizione verde e sistema economico e sociale del nostro Paese. Come più volte ho avuto modo di ribadire, ha sottolineato ancora la Teresa Bellanova, intendo avviare un confronto aperto e serrato con l'Europa sui contenuti del Piano Strategico, che dovrà delineare concretamente gli interventi attuativi della nuova PAC. Il nostro impegno sarà costante nel definire un quadro di regole comuni affinché gli impegni previsti dalla PAC costituiscono opportunità di sviluppo della filiera e non rappresentino ulteriori rappresentamenti burocratici, di cui non abbiamo bisogno. Su fronte infine dell'etichettatura nutrizionale fronte polacco, il nostro impegno è volto a stralciare le indicazioni geografiche DOP e IGP a tutela di eccellenze già riconosciute a livello europeo. Noi abbiamo avuto modo di incontrare come giuristi agroalimentari ambientali la ministra Bellanova tempo fa, ci ha assicurato sensibilità su questi temi che dall'altra parte fanno parte del suo background anche lavorativo, ci auguriamo che poi dalle parole si riesca a passare ai fatti. Ci torniamo in studio, ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Speranza in blu, la radio Diocesi Pescara Penne, indirizzo di posta elettronica, radiosperanzachioccio, radiocesipescara.it, in streaming su sito training.com e digitare Radio Speranza. La radio ha bisogno del sostegno di tutti, per contribuire conto corrente postale 55 08 6276, associazione Radio Speranza presso Curia Civescovile di Pescara Penne, piazza Spito Santo 5, 65 121 Pescara. Siamo su Facebook alla pagina Radio Speranza, su Youtube al canale Radio Speranza Pescara. Ricordiamo anche i dati di questa trasmissione, il portale www.artdiospress, il canale 636 di Misericordia TV, il canale digitale per l'Abruzzo e ancora la mail pressartechioccio.gmail.com. Quest'altra news che riguarda l'ambito europeo, il sondaggio realizzato dall'Europa che premia gli utenti italiani rispetto a quelli del resto d'Europa. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Stando a quanto dichiarano gli stessi consumatori, starebbe diminuendo l'interesse degli italiani per l'acquisto dei prodotti contraffatti e per il ricorso a contenuti piratati. Finalmente una buona notizia. Al tempo stesso risulterebbe in crescita domande dei servizi di streaming e download a pagamento. E' quanto emerge da un sondaggio dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, EUIPO, che certifica come il minore accesso a contenuti pirata si sia diffondento anche nel resto d'Europa. In Italia solo il 2% dei rispondenti a sondaggio dichiara di aver comprato deliberatamente prodotti falsi negli ultimi 12 mesi. La media dell'Unione Europea è superiore e tocca il 5%. Risulterebbe quindi che il dato è in calo di ben 4 punti percentuali rispetto all'ultimo sondaggio dell'UIPO del 2017. Nello stesso arco di tempo è anche diminuito dell'1% il ricorso agli italiani a contenuti illegali online, che si attesta oggi attorno al 6% attualmente. In Europa lo stesso dato è intorno all'8%. Quindi siamo più virtuosi. Scusate, nell'ultimo anno il 45% degli intervistati italiani ha dichiarato di essere ricorso a streaming e download a pagamento per opere prodette da copyright. Risulterebbe pertanto piuttosto accentuato l'aumento della legalità con un più 29% rispetto all'ultimo studio. E gli italiani farebbero meglio del resto degli europei che i servizi a pagamento li utilizzano solamente al 42%. A confessare di aver acquistato beni contraffatti sono soprattutto i giovani dell'Unione Europea, il 10% tra i 15 e i 24 anni. Il 23% ammette di aver scaricato intenzionalmente contenuti illegali online. In generale dal sondaggio emerge una maggiore consapevolezza degli europei sui diritti di proprietà intellettuale e che i consumatori che comprano prodotti falsi ricorrono anche a contenuti illegali online. Più persone comprendono la proprietà intellettuale, meno probabilità hanno di violarla. Questo è il commento di Christian Archambè, direttore esecutivo EUIPO. E quindi questo è qualcosa di positivo che andava sottolineato e che non spesso viene fatto. Per quanto riguarda invece Nutriform Battery by Italy, c'è la guerra a quello franco tedesco. È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto interministeriale riguardante appunto questo sistema, che è il sistema italiano di etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, quindi molto importante. È il frutto del lavoro dei ministeri delle politiche agricole, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con i nutrizionisti dell'Istituto Superiore di Sanità ed è consiglio per la ricerca economica alimentare e soprattutto della filiera agroalimentare. Attraverso il simbolo a batteria, il consumatore potrà compiere scelte alimentari consapevoli in rapporto a suo fabbisogno giornaliero e quindi alla percentuale di calorie, grassi, zuccheri e sale per singola porzione. Ciò rispetto alla quantità di assunzione raccomandata. Semplicemente guardando ogni singola batteria, il consumatore potrà immediatamente rendersi conto dell'esatta percentuale del nutriente che sta introducendo con la porzione di cibo consumata rispetto alla quantità massima raccomandata e quindi quanto di quel nutriente gli resta da assumere durante il resto della giornata. Il passaggio in canzetta ufficiale rappresenta un nuovo capitolo nella battaglia silenziosa che da tempo viene combattuta in Commissione Europea che pone di fronte il cosiddetto sistema di etichettatura alimentare a semaforo NutriScore a quello appunto NutriFone Battery che è quello italiano. Il sistema NutriScore che è quello a semaforo è stato ideato dalla Francia con sostegno di Olanda, Germania e Spagna e utilizza un semaforo che assegna un colore ad ogni alimento in base al livello di zuccheri, grassi e sale calcolati su una base di riferimento ai 100 grammi di prodotto. L'adozione in sistema franco tedesco, del quale però sono stati esclusi i prodotti DOPPI, PG e STG, secondo stime col diretti e di ferro alimentare potrebbe causare perdite fino al 50% dell'esport e per questo motivo la ministra Belanova ha bloccato il documento di conclusione del Consiglio Agricoltura dell'Unione Europea di fatto rinviando a discussione sull'adozione di un sistema di etichettatura nutrizionale europeo proprio a quest'anno, al 2021. Cooperative di Francia, Spagna, Germania e Italia chiedono un piano pluriennale con i finanziamenti dell'Unione Europea. Una formale richiesta affinché l'Unione Europea estenda le misure di crisi per il vino a tutto il 2021 è venuta dall'incontro il settore vino, la crisi e una strategia per il futuro che è stato organizzato sulla piattaforma Wine Institute by Farm Europe al quale hanno partecipato le organizzazioni cooperative di Francia, Spagna e Italia. L'incontro ha visto la partecipazione tra gli altri di Paolo Roca, direttore generale dell'International Organization Wine & Wine, Denis Pantini, direttore di Wine Monitor Nomisma e degli europarlamentari Clara Aguillera, Paolo De Castro e René Toleret. Paolo De Castro è una nostra vecchia conoscenza come giurista agroalimentare, lo abbiamo avuto a un congresso nazionale proprio di qualche anno fa a Bari. Il comparto vitivinicolo impiegherà almeno tre anni per tornare ai livelli di consumo pre-crisi. Per questo le cooperative tra i Paesi maggiori, i produttori di vino, ritengono che sia necessario estendere, ampliare e rifinanziare il programma nazionale di sostegno al comparto e che sia oggetto varare un piano pluriannale. Con questo credo che sia davvero tutto. Un cordiale saluto e una rivederci alle prossime edizioni.